E ragazzi, come va? Io sono Fieriniki E io sono Stef e questo è GKM GTA 5 E siamo qui con un nuovissimo episodio del nascondino Questa volta però saremo in compagnia di Espigiochi e Luca Esattamente, ovviamente il link in descrizione Vogliamo provare a fare un nascondino in quattro Siamo curiosi di vedere come risulta in quattro persone Quindi oggi sarà un nascondino super mega speciale Quindi fateci sapere nei commenti se vi piacerà, se vi fa piacere E se ne vorrete vedere altri appunto in compagnia E' stato super divertente, quindi spero piacere anche a voi Abbiamo scelto una location, ragazzi, incredibile Perché ci nasconderemo sopra quel palazzo Ebbene sì Espi andiamo a nasconderci, palazzo, palazzo Seguimi, seguimi Ci nascondiamo insieme per il primo round Allora, allora, allora Quanti secondi abbiamo? Abbiamo almeno 30 secondi, ce li lasciano almeno 30 secondi Morirete insieme, questa è una bella cosa Non morirà nessuno dei due Subito proprio Io e Espi vinceremo e non ci troverete in cinque minuti Allora, Espi, la mia idea è un po' pazza Oddio, dove andiamo? Vieni, 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 vieni L'ho adocchiato prima come posso Non possiamo dirlo, se no ci sentite Esatto No, certo, non dovete dire nulla Noi non guardiamo, voi non dite nulla Espi, andiamo Parlando a bassa voce, vabbè Così Ma non è un po' un vicolo cieco questo? Abbassati Dimmi Sì, ok Prova con Q Ci sta Dimmi che ti fa abbassare da qualche parte No, non mi fa abbassare Oddio, paura Ho paura È un problema È un buon nascondiglio Ok, metti qua Fammi vedere Fammi vedere Dove? Ce l'avete fatta? Ok, ok Non so se funzionerà Sì, potete andare Avvio il timer Avvio il timer Sono partiti i 5 minuti che avete Andate, andate Andiamo, andiamo Eppi, secondo me ti trovano Ma anche a te mi sa Guarda che è tutto trasparente lì Non è vero Sono schermi neri questi Luca è già partito da solo Quindi penso che ci siamo divisi Sì, sì Mi sa che ci ha fiutato Non farci trovare da due è davvero difficile Luca ha già capito in che zona siamo Secondo me È qualche giorno che non mi lavo Ci siamo Espi, no Non puoi lasciare anche la scia Mi sa che l'odore sì È un indice in più Ci farà applicare la scia Dannazione Lo sapevo che sceglierti come compagno Non era una buona idea Allora io stavo Senti, potevi regalarmi lo shampoo Al posto che lamentarti Hai ragione Allora Fai silenzio Espi Guarda, ma li ho già visti Cioè, se vi vedete lontano un video Ho visto Steph Espi, corri Via, via, via Bisogna prendere Espi Espi, corri, corri Espi sta correndo Luca, sono al terzo piano Sali e prendi la mazzata Espi Via, oddio Ho preso Steph Punta Espi Punta Espi Punta Espi Allora devo continuare No, vieni qua che se no cadi dal palazzo Fere Pazzani Vieni che cadi Vieni qua Espi ti raggiunto No, no, corro ancora bene come una gazzella Non mi prenderai mai A che piano sei Espi Ho troppa paura di cadere Non lo so Eccolo, eccolo, eccolo Ciao Espi Siete lì sotto L'ho schivato, ho schivato il macete L'uomo macete mi stai seguendo Corri, corri, corri No, no, no Attento Espi si è buttata fuori Allora, stavo cercando di prendere dalla L'alto Di testa È totalmente pazza Espi cerca di nasconderti di nuovo Veloce, ma ci stanno arrivando Attento Corri Seguo Espi Seguo Espi Mi nascondo, mi nascondo, mi nascondo Dove, dove, dove Mi nascondo No, no, cavolo Cavolo, non ce l'ho fatta Ok Espi io mi sono nascosto Cerca di seminare Fere e nasconditi Oddio, ok, ok Luca dove è finito? Dove sarà finito Steph? Facciamo cosa? Segui lasciate libero Vi aiuto a cercarlo Luca è totalmente cresciato Quindi Fere è rimasta da sola in 6 minuti No, ma no Dai, no, non ci credo che Luca mi abbandoni Beh, vi hai ancora 3 minuti Quindi non è male Banzai un'altra volta Eh, l'ho capito Ma vi devo prendere i due Tu che ti sei già nascosto Espi Che si lancia come una gazzella Da una parte all'altra Come accidenti Faccia prenderla Bravo Espi Continua a correre Espi smettila di girare in tondo Guarda, guarda come gira Basta Ok, basta No Espi Ora mi manca Steph Mi hai lasciato solo Espi Mi manca Steph È perché Luca che mi abbandona Io ogni volta che mi alleo con Espi Lui mi lascia da solo Io non ho un'idea di dove ti sei nascosto Non lo so Non ti do nessun indizio Perché voglio vincere il primo round Anche se non vale troppo Perché abbiamo perso il tuo collega Diciamo che comunque è una vittoria Mi vale tutto Dato che Espi è morto subito Mi so che hai perso anche il tuo di collega Esatto Non stavo dicendo niente Per prenderti al volo Espi mi ha trovato Scappa Allora, vediamo se hai il coraggio di seguirmi qua Allora Fere Oh mamma mia Mamma Ho paura No, scendi dalla gru Non vale Ho paura Non vale Dai, è andato nella gru lontanissima Fere Vieni Vieni a prendermi Fere Vieni qua No, non vengo Io ti sparo Lì non vale No, non vale Non vale Però una granata vale Neanche Chi l'ha deciso che vale Fere Fere Aiuto Scappa No Luca che se sei crashato ho vinto Ho vinto Espi Ho vinto da sola Gli ho fatti fuori tutti e due Espi Sappi che sono caduto dal palazzo Ma come si è caduto Stef Avevamo fatto un patto Ero sulla gru Espi Ascoltami Ero sulla gru Lei non aveva il coraggio di venire E mi ha tirato una granata Dimmi se ti sembra valida una cosa del genere Ascoltami un sacco di È completamente illegale Ecco senti Quando io scappavo Mi ha sparato alle spalle Cioè lui spara alle spalle Non ho mai fatto una cosa del genere Guarda ci sono i video con te che mi pare alle spalle Eri scappata con un veicolo Non è giusto Non è giusto Sì sapete avete un canale Quindi È una piccola parentesi Allora Ci serve il passaggio per tornare di sopra E fare il nuovo round Adesso tocca a me ed Espi Trovarvi Poi ci invertiamo di squadre 3 2 1 Nascondetevi Via 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 Vai 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 Ti seguo Ci nascondiamo assieme Espi Come vai Espi Tu sai contare Perché io sono un pochino in difficoltà No anche io Ho già perso il conto Aspettiamo un po' E poi ci giriamo Va bene Non mi bastano le mani Mi presti le tue per contare Per favore Sì usa anche quelle dei piedi però Mi raccomando Così arriviamo a 40 Tu hai le mani anche dei piedi Le dita dei piedi Espi Ah Era chiaro Scusa sono confuso Ti confondi sempre tu Io ti vedo laggare tantissimo Luca Vi siete nascosti? Ci stanno facendo aspettare un sacco Eh non lo vedo Sono noiosi Di lì di lì di lì Di lì di lì Di qui Ma dove si stanno nascondendo Cioè non ce l'hanno nascondi lì E sono di lì di lì di lì Spiegami Si è fatto giorno nel mentre Ok Allora è molto chiaro Che siamo andati in una zona complicata Espi Perché altrimenti E vedo uno a correre Prendilo No ma quello è il diversivo Espi Non ci devi cascare Non è una pallina Ehi Luca FK Abbiamo due Luca Quello giusto e quello FK Era quello fake Non era quello vero Dobbiamo cercare negli angolini più strani Esatto E li troveremo Credo Non lo so Oh no Sinceramente sono un po' preoccupato Perché io non ho visto nessuna cosa figa E invece loro Ma non è che sono andati Nella gru Hanno fatto un pieno malvagio Anche io ho pensato qualcosa del genere Salgo di sopra e vado a vedere Qui Buongiorno Ma non è che sono Sopra la gru Eh boh Cioè controllate bene Non controllo un corno cara Grazie Non lo puoi sapere dove stiamo A parte che io Non so più davvero Dove Luca Perché poi dopo un po' Non l'ho più rivisto Quindi siamo in due punti diversi Non so bene Luca Ma non puoi essere un pro nel nascondiglio Hanno inventato il nascondiglio perfetto Cioè non ce ne sono nel nascondiglio Nel caso siamo abilissimi Io ho seguito Luca Che non vedevo Espi io vado sulla gru 15 Se cado sei solo No vado solo io Vado solo io Tu sei pericoloso Tu continua a cercare in zone normali Ok Io vado qua Va bene Espi D'accordo Ok Vai Aiuto Espi ho paura Bye bye Stef Non ci rivedremo mai più Mi sa che morirò io Io lo so che sta andando in una zona totalmente inutile Loro stanno ridendo Perché sanno Che sto rischiando di morire Per nulla Però non so dove potrebbero essere Dove ci saranno nascosti? Non ho idea È incomprensibile Anche perché si vede attraverso la gru E non ci sono Non cadere No 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 Sei caduto Tutto a posto? Sì Sono vivo Sto girando intorno al palazzo Cercherò un modo di risalire Te lo prometto Espi Tu continua a cercare in qualche modo Il loro nascondiglio Ma io non so assolutamente dove cercare È il migliore del nostro Allora devo entrare qui Così non muoio No Ma non è che potete dirmi Acqua e fuoco per cortesia Oh mio dio Ho visto la loro ombra Sono sulla gru C'è la fine erano sulla gru Non ci credo Ho visto l'ombra di Luca È stato inquietantissimo Ok Non potete spar... La Mary Weather non mi fa prendere Un altro alicottero No No Non posso salire No aiuto Mi hai tirato Ok Sto scendendo piano piano Ok Arrivo Piccioncini Sto salendo fino al vostro nido Non provate a scendere dalla gru Non provateci Non stiamo scendendo No no tranquillo Io vorrei vedere cosa succede Non ci riesco Guarda nel suo schermo Steph fallo Hai ragione Non ci provare Hai ragione Hai ragione Non parare Non parare Non parare Non parare Non posso venire Cara Che cosa vuoi Sono incastrato sotto io Ok ok Si sono messi sulla punta Espi se li raggiunge Sono morti Perché non possono fuggire Mi hanno lanciato tipo dei fumogini Mi sono confuso e sono quasi caduto Ci stanno imbrogliando però No gli stavamo lanciando i diversivi sul soffitto Allora Quale punta? Quella? Espi Quella in alto Eccoli Ok Hai 50 secondi Ma sono troppo ciccione Non riesco a passare Espi ce la fai a passare Che la fai? Io a destra e tu a sinistra Cosa? Vai 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 Ma si sono buttati Con il palazzo E dove potete andare? Qui sotto No Vale vale Siamo sul palazzo quindi vale Non ci credo No 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 Cioè siamo telepatici E Luca Non chiedermi come abbiamo fatto a capirci Espi Provaci Non lo so Noi abbiamo fatto un round normale Questi fanno Banzai Sì È morto Allora Allora Io voglio fare un appello Perché ho scelto Espi come compagno di squadra Quando c'era Luca che faceva i pieni malvagi per vincere Perché lo sai che io e Luca facciamo sempre i pieni malvagi E questo ovviamente non poteva non essere così Sì ma non posso avere una persona che neanche riesce a napire le paracadute Non è giusto Senti Non era troppo alto Non l'ho fatto in tempo Non hai riflessi molto pronti Beh era difficilissimo stare nella gru ok Non capivo come scendere Cosa stai facendo Espi Niente Andiamo avanti Ci dobbiamo nascondere Allora Siamo in una zona un po' più semplice per nasconderci Perché prima c'era un po' che nascondigli Ma adesso ce ne sono molti Quindi Pensiamo a qualcosa di buono Allora Mi è venuta un'idea Espi Espi Vieni qua Nella strada non possiamo andare Pensiamo a ucciderli già da destra Sto arrivando Sto arrivando Ok Sì però Hai fatto arrabbiare il tizio Espi ti vuole picchiare Espi No 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 Eccoli Allora Devi stenderlo Devi ammazzarlo Su quella bravo Come hai fatto a fare arrabbiare un tizio? No Espi si è rialzato Espi ha detto No Vieni qua Voi potete iniziare a cercare Andiamo Andiamo È relativo al fatto che Espi risa con le persone Ok Ok Risolto Nasconditi Spero che il cadavere non si veda Perché altrimenti No tranquillo Giuro Che se ci trovano Per colpa del tuo cadavere Luca Vieni Luca È molto silenzioso Sono già trovato Espi Luca Sono già trovato Espi Espi S'hanno già trovato Via 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 Corri No spuntate fuori dal telone Cioè era una cosa troppo imbarattante Io pensavo i piedi Ha schivato No tutta la schiena spuntava fuori Espi scappa Posso prendere l'elicottero Dimmi che posso prendere l'elicottero Non puoi prendere l'elicottero No perché Indovina perché non puoi Mi sembra scontato Stef ti raggiungo Non raggiungermi Non portarmi Sì Perché ve la prendete soltanto con me Perché facciamo fuori te Poi cerchiamo Stef Mi sembra giusto No non è giusto Distruggono l'anello debole Prima Espi È quello che voleva Ma dai L'anello debole del team Non c'è guarda Ma dai Siamo morti tutti Sì guarda Yes Missione compiuta Non funziona così Espi Non è ad ammazzare gli altri Loro possono continuare Sei tu che sei morto Quindi mi hai lasciato solo per tre minuti e mezzo Allora Allora torno Torno e cerchiamo Stef Torno e cerchiamo Stef Devo rimanere nascosto per altri tre minuti Però un buon nascondiglio Secondo me questa volta Espi te lo dico Possiamo farcela Possiamo rimontare E vincerci questo round Forse Non lo so E se invece dessi una mano Allora cercarti Aspetta Luca Luca è crashato di nuovo Quindi sono da solo contro Veronica Ce la possiamo fare No scusa scusa No adesso do una mano io a Veronica Espi Dai Espi vieni vieni Espi Devo per forza Per bilanciare le cose No Non è giusto Io sono caduto di schiena Mi stai tradendo Questo è alto tradimento Lo sai Non è vero Sì che lo è È stato per bilanciare le cose Non stai bilanciando nulla Sei una schiappa È inutile stare con te Quindi non devi bilanciare Guarda che li ho distratti Non hanno inseguito te Non hanno inseguito me per mezz'ora Ma sei durato un minuto Sei durato Non sei durato quattro ore No non è vero È durato abbastanza Un minuto e venti Eccoti ti ho visto Ho visto Stef No 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 Prendilo prendilo Lo sapevo che non era abbastanza buono Salve Stef Non provarci E filo di vino Vieni 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 Voglio Voglio Io lo seguo No no E vinco di nuovo Perché Perché è comparso che Feneriki ti ha mazzolato? Perché secondo me ti ha spinto Non lo so Va bene dai Nascondetevi e vediamo se vi trovo Tanto Esfi lo trovo in due secondi E poi penso a fare Ma mi sembra normale Lo trovo in trenta secondi E poi avrò quattro minuti e trenta Ok allora ci separiamo Ok vai Con nascondigli diversi Facendo i piani per battermi Mi sembra giusto Vi trovo entrambi Vi trovo entrambi Ho già studiato un po' la mappa Secondo me ce la facciamo Non mi troverai mai Vi troverò e come cari No Vi troverò entrambi Siete al piano terra? No io non so dove Esfi Perché ci siamo separati Io non so dove si è nascosto lui E lui non sa dove Voglio un indizio tuo allora cara Fere No non posso Dai ascolta Non ci sono così tanti nascondigli Non ti posso dare indizi Mi piace Allora secondo me però sei in questo buco Esfi ti troverò Perché mi hai tradito Vedi questa è colpa tua Perché l'hai insultato Gli hai detto che non si sa nascondere È più motivato di prima E adesso ti ha fatto il nascondiglio della vita Io non so perché Esfi è motivato adesso Che succede? Mi stanno inseguendo le guardie Aiuto Mi stanno inseguendo le guardie Ma è spissola a te Gli facciamo i complimenti La polizia La polizia Oddio Ma perché lo stai inseguendo la polizia? Mi sono fermato ad accarezzare un coniglietto Ma non era il mio coniglietto Beh per come vestito Mi sembra anche giusto inseguirlo Sì esatto Arrestarlo Ho controllato tutto Ma non sto imbrogliando Mi sei pure passato di fronte Quindi Dai non mi puoi dare questa notizia Ricontrollati i piani No ma dai Arriva Luca e mi trova subito Ma senti sgraziata A che piano era Luca? Ma guarda io Piano sul tetto Ma dove? Luca Vieni qua Corri Ti voglio bene Luca Tu non mi avevi visto Dove eri? Lì praticamente Guarda se lo fa vedere Luca Lì nel muretto Ah Cioè come ha fatto a vedermi? Come ha fatto? Io stavo pensando a guardare il palazzo stesso Ma dove è Espy nel mentre? Da nessuna parte Non voglio essere da nessuna parte Ciao Espy Ma ti ho attaccato la banda A cavolo stanno arrivando tutti Vieni qua Espy Banzai Adesso schiattina solo Aia No 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 Luca prendilo Luca prendilo Luca nel mentre è crashato di nuovo Quindi sono io contro Espy Ho 30 secondi per ammazzarlo Ho 30 secondi per ammazzarlo Mi sono incastrato Mi sono incastrato Mi sono incastrato Vieni qua Mi stai facendo arrabbiare tantissimo No Non ce la farei mai Non ce la farei mai Vieni Vieni Sono scappato dalla polizia Scapperò anche a te Non ce la posso fare Non ce la posso fare Vieni qua E' più bravo a correre che a nascondersi Sì a correre è bravissimo Non l'ho chiappi più Giro giro Ci sono cose Dotti col poeco Guardate Guardate E adesso Cos'è successo? A me sembra di essere stato in giro per 5 minuti Però non vorrei dire Ti ho ammazzato A 4 minuti E 58 secondi Non ci credo No è vero Non ci credo Ho alzato il telefono Per farlo vedere alla webcam Subito dopo che ti ho ammazzato Ed era 5 e 0 1 Direi che ci possiamo fermare così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Ricordatevi di passare nel canale di ESP Giochi Fateci sapere con il sondaggio Con i commenti Con i likes Se appunto volete vedere altri nascondini in 4 Perché secondo me Sono parecchio divertenti E sono anche diversi Diciamo che diventa totalmente un'altra cosa Ah sì a voglia Perché si formano le tattiche I team E tutto un'altra cosa Quindi sarà secondo me interessante Sia farli da 2 Sia farli da 4 Quindi fateci sapere nei commenti E ci fermiamo così Bene che se dice così Se ci lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Grazie per la visione!